Bella a tutti quanti ragazzi oggi raga parliamo dell'aggiornamento ragazzi di fortnite quindi uscirà la spas e riuscirà la modalità arena let game ci dica gli orari ci dica gli orari che io non so niente ragazzi quindi fino alle 10 c'è normale ok allora dalle nove le dieci incomincia ad uscire lì la spas l'area let game tutto aspera allora le dieci cosa vuol dire la pace cos'è cioè ok quindi alle 10 c'è l'aggiornamento le modalità saranno l'esoro e l'edrio non ci saranno due ok e per chi non l'ha mai giocata sarebbe un end ok sì lì se rimettono sempre i punti che non si perdono è tanta roba cioè quando c'era l'arena let game potevi giocare non perdevi mai punti infatti era arrivato anche ai sui 30 mila punti mi sembra quindi è una bella modalità per quello sì 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 quella sì la specie di end sì cioè sì sì circa sì comunque cosa vuol dire allora aspetta allora gli orari quindi in poche parole esce alle 10 circa del tutto alle 10 c'è la pace alle 9 e mezza si bloccano i server non si può più giocare aspetta eh quando è che si bloccano i server a che orario alle 9 e mezza di mattina oh cazzo fino a che ora fino alle 10 ok e quindi ok ok ma alle 9 esce allora l'arena se non sbaglio alle 7 dovrebbe partire con l'arena solo ah ok ok good va buono ragazzi allora spero che avete capito anche voi e niente noi ci becchiamo comunque in un prossimo video spero che comunque siamo stati utili e niente ragazzi lasciate un like e bella ragazzi ci becchiamo nel prossimo video grazie